Grande soddisfazione oggi per l'approvazione del testo unico sulla cultura. Il mio contributo è stato un contributo forte, palese e pronto sin dall'inizio. Ho collaborato attivamente con l'assessore, con il Dipartimento e questo ha portato grande soddisfazione. Molti miei emendamenti sono stati riconosciuti validi da tutti. Ottimo lavoro di condivisione con l'assessorato, il Dipartimento, ma anche con l'opposizione. Perché la cultura è importante per le regioni, è importante perché è anche un volano per l'economia, per il turismo, per tutto quello che può riguardare il progresso di una regione. Mi preme sottolineare il grande aiuto che mi è stato dato dalla dottoressa Maria Paola Lupo e da Federica, perché sono state con me fin dalla prima redazione del primo testo della cultura. È andato avanti fin quando non siamo riusciti ad ottenere questo testo per la regione Abruzzo, testo unico della cultura condiviso da tutti. Sono molto soddisfatta di questo.